L'assessore alla salute della regione Basilicata, Tilio Martorano, ha convocato una riunione con lavoratori, sindacati e rappresentanti del Donuva, per fare il punto della situazione sulle spettanze arretrate da corrispondere ai lavoratori lucani. Ci attendiamo che il Donuva, ha detto l'assessore Martorano, operi con coerenza e senso di responsabilità, senza tradire ancora una volta le attese legittime dei lavoratori. Un dietrofront sul pagamento degli stipendi non potrà essere accettato e, in tal caso, ha spiegato Martorano, la regione dovrà agire di conseguenza, prendendo atto che la situazione non darebbe più affidabilità nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, per assicurare i quali dovrebbe essere valutata ogni possibile soluzione che consenta il superamento del rapporto collente al centro della difficile situazione attuale. Nel corso dell'incontro, l'amministrazione dell'istituto ha spiegato che, per via dell'istanza di fallimento, il pagamento delle mensilità arretrate deve essere autorizzato dal Tribunale di Trani, ma tuttavia si è impegnata ad assicurare il pagamento della mensilità di settembre, per i lavoratori lucani, entro il prossimo 7 dicembre.